Il povero Paolo Felicissimo e speranzoso di portarsi a casa il Montepremi Solo che, al gioco finale, non ha riuscito a indovinare la parola che unisse le parole mare, moglie, cappello, vita e buona Così ha visto scomparire sotto i suoi occhi 52.500 euro di Montepremi che aveva racimolato È stato uno shock per tutti, soprattutto per lui che ci aveva sperato parecchio. Ma all'eredità ne vediamo sempre delle belle E sempre nella puntata del 29 ottobre, il pubblico ha assistito a un momento assurdo Alla domanda su un capoluogo di provincia irpina, un concorrente ha risposto, Ancoma . Insomma, la geografia non sembra essere la specialità dei concorrenti del quiz di Rai 1 Nella puntata di martedì 30 ottobre, però, è successo dell'altro. Stavolta la protagonista dell'errore madornale è la concorrente Stefania che ha toppato di brutto su una domanda di storia Quale popolo dominava sul Messico meridionale nel 500? Le ha chiesto Flavio Insinna E lei ha dato una risposta shock che ha lasciato il pubblico in studio e a casa senza parole . Alla domanda di Flavio Insinna, Stefania ha risposto, i cimbri invece erano i molto più conosciuti aztechi . Errore gravissimo. I cimbri, infatti, erano un popolo vissuto molto ma molto prima nelle regioni prealpine dell'Italia settentrionale Capra. Avrebbe commentato Sgarbi, che per fortuna di Stefania non ha mai condotto l'eredità . E mentre i concorrenti fanno delle grandissimi figuracce, sul conduttore della trasmissione circola una brutta voce . Secondo alcune indiscrezioni, Flavio Insinna sarà presto sostituito. Secondo Velvet Gossip, a sostituire Insinna potrebbe arrivare Claudio Lippi, nome già circolato poco dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi che teneva il timone del quiz show . Ma sarà vero? Per il momento non ci sono conferme né smentite, il che significa che il cambiamento non sarà una cosa repentina .